Io non entro in questa vicenda Commissione Antimafia, Autorità Giudiziaria, Presidente De Luca, prendo totalmente le distanze dal metodo, dal contenuto, dai toni, dalla forma di un uomo delle istituzioni per come si è espresso davanti ad alcuni sindaci con quel monologo che istiga in modo assolutamente palese al voto clientelare, al voto di scambio. Poi il resto appartiene a certamenti che fanno altre istituzioni. Io prendo le distanze dal punto di vista politico e istituzionale. Lei non l'avrebbe fatto? Beh, mi sembra assolutamente evidente. Che cosa non avrebbe fatto il comportamento alla De Luca? Ma siamo due persone completamente diverse dal punto di vista politico, ma anche per il senso istituzionale che ricopriamo. In questa campagna per il referendum stanno facendo di tutto. Anche la consumazione finale di un delitto politico che è l'emendamento approvato in commissione alla Camera ieri, col commissariamento della sanità affidato a De Luca, quello che il Partito Democratico ha fatto per anni in questi territori. E oggi noi paghiamo come cittadini e come amministratori di questa città i commissariamenti Bassolino, per capirci, quindi sempre Partito Democratico, sui rifiuti, sulla sanità, sui trasporti. E mi pare che De Luca qualche giorno fa aveva detto che lui è contrario ai commissariamenti. Poi guarda un po'. Quando fanno i commissariamenti loro se la cantano e se la suonano e si nominano anche tra di loro. Quando commissariarono Bagnoli con quell'atto di abuso della democrazia e degli assetti democratici, ovviamente non gli passò nemmeno per un attimo per la testa di provare a nominare commissario il sindaco di Napoli, che ovviamente avrebbe ugualmente respinto il commissariamento, ma il vulnus democratico sarebbe stato sicuramente minore, e andarono a trovare a prendere uno della loro cerchia. Insomma, io credo che le istituzioni sono un bene comune. In questa campagna elettorale stiamo assistendo veramente a consumazioni di delitti politici e morali e forse non solo, perché c'è anche qualcosa di giuridicamente rilevante da quello che sta accadendo in questi giorni. Tra l'altro è assolutamente evidente la manovra elettorale sul commissariamento alla sanità per dare tutto il potere in mano alla politica, il potere di gestione, perché se guardiamo quello che in quest'anno e mezzo di presidenza della regione è stato fatto sulla sanità c'è da essere enormemente preoccupati, perché abbiamo proteste quotidiane di cittadini, di operatori sanitari, di medici, dal San Paolo a Forigrotta, al San Gennaro alla sanità, per finire all'ospedale del mare, su cui la regione continua a tagliare nastri in continuazione ma non si vede la luce. Adesso, a dieci giorni dal voto, si decide di affidare tutta la gestione della sanità con poteri commissariali alla politica e al sistema e perpetreremo quello che abbiamo già visto col sistema in salsa PD in questi anni, con commissariamenti come furono dei rifiuti, dei trasporti e della sanità. Quindi veramente credo che tutti hanno capito che cosa sta accadendo in questi giorni sulla linea telefonica Renzi De Luca.